Ciao, sono la nonna. Le persone del sud Italia dicono che mettendo dei tappi di sughero dentro l'acqua dove si fa bollire il polipo, il polipo diventa più tenero. Poi, quando una volta è cotto, dopo 50 minuti, si riprende il polipo, si taglia a pezzettini piccoli, si mette un po' di limone, un po' di olio, un po' di sale, aglio e carota e sedano a pezzettini e diventa squisito. Proviamo! No? No, Nancy, non si può aprire, devono passare 40 minuti, dopodiché puoi vedere se è morbido o meno con una forchetta. Se è morbido, spegni il fuoco e lasci riposare sino a quando non è tiepido. Se invece non è morbido, lasci altri 10 minuti e poi spegni. Ma non si apre. No. 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 Prova assaggio. Grazie per la visione.